Si tratta di scarti provenienti dal ciclo produttivo dell'acciaieria 1, dove si effettua la conversione da ghisa ad acciaio. Questo polverino bianco viene movimentato con una pala meccanica e si disperde per aria. Beh, alcune domande sono d'obbligo. Cos'è questo polverino bianco? Come mai questo polverino viene movimentato in questo muto senza cappe e senza coperture?